La seconda settimana del grande fratello Vip non è caratterizzata solo da Leti. Nel corso delle lunghe giornate nella casa, infatti, non mancano i momenti di leggerezza. Uno dei quali, ha avuto luogo proprio in queste ore. La protagonista è Valeria Marini. La showgirl in bikini, si stava godendo il sole settembrino, comodamente distesa in cortile con gli altri inquilini. Laura Freddi aveva appena proposto di stare in silenzio per provare a schiacciare un pisolino. Di punto in bianco, però, la showgirl ha iniziato a urlare. Oddio, aiuto un'ape! Si è alzata di scatto dalla poltroncina e ha iniziato a correre per il giardino, urlando a più non posso e liberandosi del microfono. Inutile dire, che gli altri inquilini sono scoppiati in una fragorosa risata. Laura Freddi ha domandato. Ma dov'è quest'ape? Clemente Rosso allora, si è detto convinto che si trattasse solo di una farfalla. Ma Valeria Marini è rimasta ferma sulla sua posizione. Era una peregina così grande. La sua reazione scomposta, però, ha causato l'ilarità degli internauti e in molti hanno ammesso che se si fossero trovati nella stessa situazione, avrebbero reagito allo stesso modo. Che se ne frega! Che se ne frega! Che se ne frega! Grazie a tutti